Si terrà lunedì l'incontro fra i soci di Ati 2020 Naedi per la valutazione riguardante la riapertura delle piscine. L'incontro che si sarebbe dovuto tenere ieri è slittato infatti al 25 gennaio, quando verrà fatta un'attenta analisi della situazione anche alla luce della notizia arrivata ieri dalla Finnazionale che ha cancellato i criteri a nazionali giovanili in programma a Riccione dal 9 al 14 aprile con il differimento al 25 aprile 2021. Del termine utile per l'organizzazione delle manifestazioni valevoli per il campionato italiano di categoria su base regionale. Noi, spiega Lanza e la direttore generale delle NAIA di Nazareno Di Matteo, siamo pronti a riaprire anche il primo febbraio. Lunedì con tutti i soci faremo un'attenta analisi della situazione per capire cosa fare e come comportarsi. Resta però una situazione difficile a livello generale che ha portato la Finnazionale all'annullamento dei criteri a di Riccione a testimonianza di una situazione realmente difficile e complicata innanzitutto a livello sanitario. Per quanto riguarda la situazione sportiva c'è un problema serio, reale per far ripartire gli impianti perché senza le risorse promesse ci troveremmo di fronte ad una situazione che da difficile diventerebbe drammatica. Affermo restando, conclude Di Matteo, che la priorità deve restare quella della salvaguardia della salute.